Va bene, come al solito noi siamo diciamo abbastanza pungenti, però consigli comunali probabilmente le faremo l'ultima puntata la settimana prossima, poi entreremo nella campagna elettorale. A proposito di campagna elettorale, domani, sabato, nel pomeriggio alle 18 mi sembra, ci sarà l'inaugurazione della sede di Ragusa prossima, la lista guidata da Giorgio Masseri che vedete in questa foto di repertorio. La sede si trova praticamente di fronte alle poste in piazza Matteotti di cui si parlava prima con Cesare Pluchino. Bene, quello come abbiamo detto anche nell'articolo che ho pubblicato su Reteblea e sulla mia pagina Facebook, il centro dovrebbe essere assolutamente uno degli argomenti prioritari da mettere in questa campagna elettorale, perché ci siamo resi conto che si spopola, ma non tanto perché non ci sono i servizi, ma perché la gente ha preferito andarsene in altri posti, ma oggi dobbiamo convincere di qualunque tipo di persone, si tratti di venire a vivere bene nel centro e dare invece tutte le cose che servono, dalle scuole ai supermercati, ai posteggi etc., tutto questo è assolutamente necessario, quindi in campagna elettorale dobbiamo parlare molto del centro storico di Ragusa Superiore, non di Ragusa Ibla. Vi lascio con un'altra intervista con Gianni Papa che parla di Anfas, perché c'è un appuntamento importante la prossima settimana, quindi chiudiamo questa settimana molto interessante, io vi auguro un buon weekend, poi ci vediamo lunedì prossimo e poi entriamo nell'atmosfera pasquale. Ciao a tutti!